al nord al centro e sulla sardegna molto nuvoloso coperto con piogge temporali diffusi che localmente saranno di forte intensità ma con tendenza a schiarite sul settore nord occidentale al sud sulla sicilia nuvolosità in accentuazione con isolate precipitazioni anche temporarische localmente di forte intensità temperatura in diminuzione le minime al nord in diminuzione le massime più accentuate al nord e al centro venti moderati o forti da nord sulle regioni nord occidentali sulle regioni del medio e alto versante tirrenico e sulla sardegna deboli o moderati intorno sud sulle altre regioni mari molto mossi i mari ad ovest dell'italia da poco mossi a mossi gli altri mari